Nel weekend prenatalizio è stata la corale polifonica Pietro Branchina di Adrano ad esibirsi all'Arena dell'Etna all'interno di Armonie Natalizie con il tradizionale concerto di Natale. Il coro diretto dalla soprano Piera Bivona si è esibito in canti tipici del Natale ma anche in inni sacri. Siamo sempre felicissimi di aiutare l'atmosfera natalizia attraverso la musica, il canto e queste bellissime musiche tradizionali natalizie che ci danno molta pace e serenità. Sono contentissima assieme a tutti i coristi e assieme ai musicisti che sono Gian Bartolo Porretta e Giovanni Caruso. Mi pregio di poter collaborare con questi due grandi musicisti, uno il pianista collabora con il Teatro Massimo Vincenzo Bellini, il maestro accompagnatore e il percussionista è docente di percussioni al Conservatorio di Catania. E quindi siamo veramente molto emozionati e attraverso la musica il nostro intento è quello di dare un po' di serenità, di tranquillità a tutto il pubblico che ci verrà ad ascoltare. Ovviamente il repertorio è quello classico natalizio ma non mancherà qualche testo sacro che rientra poi comunque all'interno del contesto di Natale. Sì esattamente, molti brani natalizi, qualche sacro, anche io canterò un brano, è la Vergine degli Angeli, quindi fa parte dell'opera di Giuseppe Verdi, però si presta benissimo perché è un canto appunto dedicato alla Madonna e ci sarà qualche altro brano, una Ninna-Nanna che la Madonna canta al suo bambino, Gesù, e poi quasi tutto un repertorio tradizionale conosciutissimo natalizio. Allora, buon Natale e buone feste. Grazie altrettanto a tutta la cittadinanza di Adrano, colgo l'occasione appunto per ringraziare anche l'amministrazione comunale che ci ha permesso come ogni anno di poterci esibire. Allora, buon Natale e buone feste. Allora, buon Natale e buone feste. Allora, buon Natale e buone feste.